bella ragazzi qui bafome tv e un po in ritardo il video ma ragazzi vi assicuro che si gode ancora tantissimo per ora napoli 2 a 5 bellissima partita in trasferta in un campo difficilissimo che ci odiano tantissimo e quindi niente ragazzi ci vediamo dopo il light speriamo che da sonno fa scherzi li vedo poco reattivi però posso dire subito grande ioni forza navoli forza sempre o fallo arbitro qualche cartellino non cominciamo a tirare fuori no no doveva tirare subito lo ziano al volo anche se gli ha dato fastidio raga comunque uno schema vergognoso schema vergognoso c'è ma non era non era ideato che tutti e due si andavano per pallone ma che altro fallo altro fallo ma ci sta infatti bravo cavara ci sta ma infatti come ha detto spalletti e come ho detto io in amichevoli negli amichevoli tocca taglia tempo regà in gruppo praticamente quasi nuovo bella di lorenzo per lo zano ma lo zano no che si è mangiato si man che si è mangiato si man sta tutto storto assurdo assurdo ma chi ma è partito chi ma regà è partito chi ma regà è partito chi ma regà è partito chi ma un pallone buono ma lo zano un po egoista zelischi pure zelischi pure stava di mutirerà paratona di un tipo si ma era fallo era fallo no scusate non era fallo è fallonetto perché ho tirato giù nessuno si lamenta a me questa cosa se era a roma dei morigno stavano due eccolo eccolo parla di roma dei morigno stavano tutti già intorno all'arbitro parco due già sbracciano invece noi sempre come al solito questo ci ha rovinato sarri siamo la squadra più corretta ma sbagliatissima vinceremo mai un cazzo così gomitate alla ronica la contini odio cavara no no qua poteva fa meglio qua eh però poteva poteva dire meglio qui c'è regà questi c'hanno la punta del venezia quanti quell'ha fatto il ring capace che ci segna però è già già quella qui guarda osi man guarda osi man guarda osi man mamma mia spalletti imbufalito ecco alla bravo kim bravo kim porca puttana regà ma osi man con un po di tenuta lascia il pallone cioè passala poi l'hai protetta passala guarda qua ancora la tocca la tocca aspetta è parco due ma dalla subito cazzo c'era lo zano c'era c'erano gli uomini vado più all'acqua con l'imbre che pure io vediamo come rientro una storia in break che pure questa cosa per quanto è debole del napoli mentalmente tocca sta attento pure quando rientri nel colin break ragazzi 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 se rieschi sempre da messo lì col tacco po lezioso come ha detto bene lui tutti fermi lasagna oh l'ho detto tocca assattenti pure al colin break quando rientri dal colin break cioè tutti battete bene palo come al solito regà come al solito con mar solito poi incominciamo coi pali mo eh mo incominciamo coi pali dai cazzo campionato è questo te spingono c'è in gioco oh 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 cosi man cazzo potevi potevi poteva mo capirai già già sullo 0 a 0 stavano tutti dietro ora se giocano le chiavi di casa vai mettere a mezzo andiamo cazzo ce l'ho pure a panta andiamo max si va alla fine partita e max come è arrivato bello altro che insegna regà già che sei più alto e poi fai un gol del genere ecco insegna non l'avrebbe mai fatto daie cazzo regà daie daie pure al fantacalcio si va no chissà dove cazzo è no però faccio vedere il regista mamma mia osi man niente sta dormendo quello di da sonna gli è preso gli è preso un infarto a quello di da sonna ragazzi sente più il telecronista qua c'è stato un'azione palla in aria sopra di petto di osi man che si gira stringe troppo pallone fuori è morto quello di da sonna i maregà di testa sono tutte sue tutte però non ha perso un duell aereo no 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 non è vero giovane oddio spero di si oddio che è vero giovane si giovane me l'hai mezzo rovinato oddio no non è vero sono contento duale ma stai super in anticipo ma che stai allo stadio giovane o l'hai predetto o l'hai predetto io pensavo che stai in anticipo però poi non è possibile che stai in anticipo dai ragazzi dai regà dai regà meno male che l'avemmo finito andiamo sul 2-1 e mo' tocca tocca dominare il secondo tempo bello si vengono che piangono assist di Lorenzo ho preso anche l'assist di Lorenzo del Napoli c'ho di Lorenzo Kvara e Mesa Basta purtroppo che è successo? il check review bellissima ste esultanza bellissima non solo nervosismo perché insomma sentite il ventegodi Kim di testa un'altra volta aia e ripa ripa si è rotto hanno rotto i giocatori per festeggiare sta svegliata quella della zona che comorigno che dall'altra parte non so se bella Dario guardate se mo' finisca nel rigore Kim non mi pareva molto pulito lì bello che va non so se ce l'ha nulla non regalo sapete se me mo' danno il rigore Kim mi pareva molto sporco lì spero che era fuori aria forse non lo so mi puzza speriamo bene speriamo bene bravo Kvara assist io c'ho paura però ancora non sta succedendo niente quindi sento un fischio all'inizio c'ho un po' paura non mi sto godendo buono sembra buono 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 bello simone ecco sulla forse difesa palla sponda è meglio potrebbe far comodo comunque 17 gol ha detto in effetti ha ragione 17 gol senza rigori senza rigori no arbitro sei un pupazzo sei un pupazzo cominciamo giusto giusto vai Lobo vai Lobo vai Lobo vai Lobo mamma mia ragazzi Lobo è un fenomeno Lobo è un fenomeno e già l'aveva fatto un gol del genere così no ragazzi 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 Iniesta il nuovo Iniesta il nuovo Iniesta questo c'ha non di passaggi di visione il nuovo Iniesta in controllo fa quel passettino ragà ragà lo botca mi sta stupendo sempre ogni giorno di più chapeau ragà chapeau un giocatore così io non credevo di pescarlo soprattutto dal primo anno di Gattuso ve lo ripeto non mi è mai dispiaciuto però ma con Gattuso ma Demme invece tanta roba invece adesso con l'opposto cioè questo con lo botca è un fenomeno stop inamichevole ma pure qua ha fatto dei stop glamorosi con campanili messa giù con eleganza si gira un controllo è straordinario un giocatore straordinario straordinario cioè non è che siamo così scarsi io ripeto ero abbastanza fiducioso ma qualcuno di voi c'era in amichevoli forse uno dei pochi fiduciosi mamma mia Lobo l'ha pure toccata l'ha pure recuperata Lobo stavo a pensare che non si torna più indietro con Insigne a volte si tornava sempre indietro di Lorenzo per Rosimane bravo per Politano bravissimi ragazzi bravissimi ragazzi siamo forti secondo me siamo forti oddio il Verone il Verone è un po' scherzino però siamo forti ottimo regà la difesa ancora ci vuole un po' di ambientamento offensivamente parlando Quara secondo me è meglio ripeto è meglio di Insigne l'ho detto in amichevole nasce tutto dallo Botkad che recupera davvero bellissima stazione bravo Simen bravo Politano pure è difficile stoppare e tirare subito ottimo regà bravi bravi c'è bisogno di tempo bravo non chissà ma quali mamma mia non chissà mamma mia non chissà e devi tirare dove tirare bravo però bravo mi sta piacendo come siamo a gestire pure bene o male il risultato ok che loro positivo regà ancora più positivo bravo Rachmani vanno avanti se c'è spazio vanno avanti cazzo ottimo ottimo ragazzi commentate il video mettete mi piace e noi ci vediamo domenica 21 18 e 30 Napoli Monza Forza Napoli Forza Napoli Forza Napoli Forza Napoli